Ecco, è cominciato le gare, rete, rete, adesso ho segnato la Virtus Castelfrentano, la prima rete di questa giornata contro la Valdisangro con la maglia classica bianco-azzurra e la Virtus Castelfrentano con la classica maglia giallorossa, da questo lato c'è la Virtus Lanciano con la classica maglia rossonera e il Mariottano con la maglia bianco-rossa, le gare vengono dirette dagli istruttori, i mister istruttori, da questo lato c'è mister Renato, mister Giuseppe, mister Nicola, mister Camillo da questo lato, là in ponto c'è mister Giulio e mister Simone, rete, altra rete della Virtus Castelfrentano, altra rete, si continuerà così per tutta la mattinata, si utilizzerà tutte e due e metà campo, giocheranno simultaneamente quattro compagini, mentre questo pomeriggio continueranno alcune gare, dopo c'è il Clou questa sera, a seguire c'è la finale dei giovanissimi tra la Virtus Castelfrentano e la Renato Curi Angolana, mentre prima per gli esordienti ci sarà la finale tra il Real Tuscolano e la Virtus Lanciano, pertanto oggi ci saranno due finali, qua è stata fatta una terza rete, da questo lato, sempre ad opera della Virtus Castelfrentano, ma alla fine il risultato non serve, basta che i ragazzi si divertono, ovviamente se vincono rimangono soddisfatti i stessi ragazzi, però lo spirito è giocare, divertirsi e farli divertire. Adesso ci stanno preparando per la prossima gara altre quattro squadre. Siamo aggettivi dei spettatori che presso il Distanzo Astronomici sono a disposizione di colazione con con i tigli, boccanotti, cappuccini, caffè e bevande in generale, grazie. Ecco pure mister Matteo, con le funzioni di direttore di campo. Sì, che squadre sono? Sì, che squadre sono? Sì, sì, ah ok. Grazie.